Grazie a Eldora TV, oggi riceviamo il Chef Bocca. Ciao, Chef Bocca! Ciao, buongiorno a tutti! Quindi, potete share con noi come ti è finito per essere il Chef del Presidente? Beh, ho cominciato molto piccolo, ma ho avuto molto via tutto il mondo, e dopo che mi sono tornato in Italia, ho avuto questa possibilità di andare in Quirinal, e per me è stato un piacere, non so come dire in inglese, ma è un'ottore per me di cuore per il Presidente. Quindi, ho avuto molto bello, ho avuto un po' molto tempo, lavorato in Italia, tutti i restauranti, hoteli e cose così, e dopo che ho avuto la possibilità di andare in Quirinal, la mia esperienza ha cambiato. Perché quando si cuore per il Presidente, hai bisogno di preparare qualcosa per quella persona, non c'è qualcuno che va venire e avere la città. Ma hai bisogno di preparare per quella persona quello che piace, e quello che credo sia meglio per lui fare. Hai bisogno di aspettare? Non, 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 non. Tutti i presenti che avevamo, non avevamo aspettare, ma abbiamo fatto tutto la città tradizionale, italiana. E quanti persone lavorano con te? No, siamo solo sei, sei persone, non troppo. Ma abbiamo fatto tutto. Abbiamo la pastiglia, la ricetta, abbiamo molti cose da fare ogni giorno, quindi è bello di fare. Perché abbiamo fatto anche l'evento, non solo la casa privata, ma abbiamo l'evento, abbiamo il buffet, abbiamo molti altri cose, non abbiamo fatto nulla cosa da fare con le altre persone, abbiamo fatto tutto dentro della nostra città. E quanto riguarda i ingredienti? Cosa città? Cosa città locale, regionale, o hai un giardino? Abbiamo il giardino, abbiamo appena aperto in questo anno. Abbiamo questo giardino, è in una residenza in summer. Abbiamo fatto tutti i vegetali che vengono dal giardino, e abbiamo fatto tutti i ingredienti locali, come l'olivo e l'olivo e l'olivo, ci sono solo da Lazio, vicino a Roma. Perché ci sono molte altre cose, abbiamo fatto da tutta l'Italia. Abbiamo tutti felice, quindi possiamo dire che servono l'equilibrio, quindi possiamo dare la possibilità a tutti per sentire quello che abbiamo in Italia. E quanto riguarda voi? Hai un piatto favorito? Sì, ho il mio piatto favorito, che a volte... Beh, mi piace, mi piace fare la pasta e il pezzo. Pasta, è il nostro... Pasta, non c'è pizza, altrimenti ci sarebbe mandolino, pasta, pizza... Non, non è in modo giusto. Ma comunque, la pasta è una delle mie piatti preferite. ci sono molte cose per fare, comunque. Ok, e quali avete apprenduto di questo tipo di esperienza di essere qui con Eldor? Oh, è... Cioè, quando si parli con gli altri chef, hanno tutte altre esperienze, ma, ovviamente, hanno altre cose da dire, anche per gli ingredienti, perché non troviamo tutti gli ingredienti in tutto il mondo, ma troviamo gli ingredienti dove resta, quindi è molto bello preparare gli ingredienti con gli ingredienti dove sei, come ora in Svizzera. Quindi, si può preparare gli ingredienti con gli ingredienti in Svizzera. Si, è stato molto bello. È stato molto interessante, il vino che ho avuto oggi. È 10 mesi, e l'importante cosa, è stato molto equilibrato con il salto, e cose così, è stato molto interessante. Mi piace, anche il vino è bello. è stato molto bello, è stato molto bello. Ok, quindi, grazie a tutti per noi. Grazie, grazie. Ci vediamo presto, speriamo. Ciao, ciao.